Buongiorno, buon inizio di weekend, siamo pronti per darvi tutte le notizie di giornata, le ultimissime a cominciare dalla situazione in Ucraina, andiamo a vedere subito con l'aiuto del portale dell'agenzia Anza quali sono le ultime novità dal fronte. Nuovo copilfuoco deciso per la capitale Kiev che scatterà da questa sera fino a lunedì. Intanto la Gran Bretagna accusa i russi di bombardare indiscriminatamente, cioè senza fare differenza tra obiettivi militari e il coinvolgimento dei civili. Queste sono delle gravissime violazioni di diritto internazionale umanitario. La cronaca della giornata, quindi da Kiev a Sumy, ancora sirene in molte città. Il Pentagono dice che la Russia cerca di portare rinforzi dalla Georgia. Kiev fallito un piano per uccidere Zelensky. Cambio di strategia da parte di Mosca. Le forze armate si concentreranno sulla completa liberazione del Donbass. E ai soldati sarebbe stato detto che la guerra finirà il 9 maggio. Dunque cosa significa? Che le notizie che arrivavano e che sono arrivate nei giorni scorsi sull'esercito russo in difficoltà evidentemente rispondono al vero. Perché secondo le stime dell'Ucraina e di Kiev sarebbero morti 16.000 soldati russi. L'esercito sarebbe in difficoltà. Kiev è stata difesa strenuamente dalla resistenza di Zelensky. E dunque i russi non sono riusciti a prendere la capitale. e dunque Mosca avrebbe deciso di concentrarsi soltanto su quello che probabilmente era anche il primo vero obiettivo e cioè il Donbass. Quindi si cercherà da parte della Russia, cercheranno i russi di consolidare la loro posizione in quei territori che già hanno occupato provando a costituire, a completare una fascia completa con il Donbass e quei territori che sono al confine con la Russia. Questa potrebbe essere una buona notizia nel senso che vuol dire che la Russia sta facendo marcia indietro. Naturalmente non è mai una buona notizia quando si parla comunque di occupazione di concentrazione delle truppe per azioni belliche perché non è mai una buona notizia. Speriamo però che si arrivi al cessato il fuoco prima possibile e ad un accordo che consenta poi di trattare nella maniera più serena possibile, senza ovviamente più spari fermo restando che la Russia dovrà in qualche modo essere poi processata per i crimini di guerra che sono stati segnalati e che vengono segnalati costantemente. Andiamo avanti adesso e sentiamo le parole del Presidente dell'Ucraina Zelensky che come sapete ogni giorno realizza dei video, diffonde attraverso i social, attraverso Telegram, attraverso altri social. Sentiamo le parole, che cosa ha detto, qual è l'ultimo discorso, l'ultimo video di Zelensky. L'integrità, dunque, territoriale dovrà essere salvaguardata. Si cominciano a fare discorsi che in qualche modo lasciano traperare quali possono essere i termini di un accordo tra Russia ed Ucraina. Sentiamo adesso invece Draghi sulle decisioni che l'Unione Europea ha assunto in relazione alla crisi energetica e soprattutto all'approvvigionamento del gas. Poi faremo il punto anche con un servizio dell'agenzia Anza. Ma intanto le parole di Draghi subito dopo la riunione in sede di Consiglio Europeo su questo tema. Quindi la discussione non è semplice di cosa fare di fronte a un aumento del prezzo del gas, la portata che abbiamo visto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse. Quindi l'importante era riuscire ad avere un risultato di questa discussione che non fosse divisivo. E sostanzialmente abbiamo, in un certo senso, siamo stati soddisfatti della conclusione. Abbiamo tenuto il punto sul fatto che per noi alcune misure, tra l'altro, sono state già intraprese. Il sostegno alle famiglie, il sostegno alle imprese per mitigare gli effetti dell'aumento del prezzo del gas e l'aumento del prezzo dell'elettricità. La tassazione dei profitti in eccesso, dei profitti, chiamiamoli, straordinari, fatti dalle società produttrici e che commercializzano l'energia elettrica. E anche la possibilità di mettere un tetto al prezzo del gas, cioè un price cap. Su tutto questo si è deciso che la Commissione discuterà ed esplorerà tutte queste opzioni con quelli che sono stati definiti gli stakeholders, che sicuramente sono le grandi società petrolifere, le grandi società elettriche e le grandi società di distribuzione e probabilmente anche altre. E ci sarà un consiglio dell'energia, quindi dei ministri dell'energia, che parteciperà a questa discussione. E quindi, fatto questo, noi per maggio avremo delle proposte a riguardo. Per maggio avremo anche un'altra cosa. Avremo una proposta della Commissione sulla possibilità, sulla possibilità, quindi non è detto che ci sia la possibilità, ma sulla possibilità di spacchettare la formazione del prezzo dell'energia elettrica da quella del gas, che è un altro aspetto per il quale bisogna aspettare un rapporto del regolatore europeo. Adesso andiamo a sentire il servizio dell'agenzia ANSA che fa proprio il punto su questo tema, perché arriverà gas liquido dagli Stati Uniti. Si tenta di fare quadrato per non prendere più gas dalla Russia o limitare al minimo e dunque rendersi indipendenti. Sentiamo. Alla fine di una lunga giornata di lavori, l'accordo è arrivato. I Paesi dell'Unione Europea procederanno all'acquisto congiunto di gas per far valere sui mercati il loro peso strategico e politico e spuntare condizioni migliori. Parallelamente, in vista del prossimo inverno, i 27 procederanno a ricostituire le scorte anche comuni. Resta invece in sospeso il tema del tetto ai prezzi del gas e della riforma del mercato dell'energia elettrica. Il Consiglio Europeo ha dato mandato alla Commissione di studiare tutte le opzioni già sul tavolo e di arrivare a nuove proposte a maggio prossimo. Nel quadro delle azioni messe in campo per uscire dalla dipendenza dalle forniture dalla Russia, rientra anche l'accordo annunciato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente statunitense Joe Biden per l'importazione dagli Stati Uniti di 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto nel 2022. Un quantitativo che consentirà di sostituire le forniture russe di GNL è destinato a salire a 50 miliardi di metri cubi entro il 2030, un quantitativo equivalente a un terzo degli attuali flussi di gas dalla Russia. E adesso invece andiamo a parlare del caro benzina che però dal primo aprile nella nostra regione sarà decisamente un problema risolto. Poi chissà per quanto tempo, questo lo vedremo, ma intanto dal primo aprile tra gli sconti, tra il taglio deciso di 30 centesimi da parte del Governo sul prezzo al litro al distributore di benzina e gasolio, si aggiungerà il maxi sconto della regione Friuli Venezia Giulia che potrebbe portare il costo al distributore ai livelli della Slovenia. Il servizio di Davide Zanirato. Mentre continuano a calare i prezzi alle pompe, oggi la benzina in alcuni distributori della regione si pagava a 1,66 e il diesel a 1,68 e questo per effetto del taglio nazionale di 30,5 centesimi varato dal Governo, in Friuli Venezia Giulia la giunta a Fedriga ha varato in mattinata il provvedimento teso ad aumentare lo sconto regionale a partire dal primo aprile. La decisione consente così di sommare al taglio deciso da Roma un'ulteriore riduzione che potrà sfiorare in alcune zone i 60 centesimi al litro per la benzina e i 50 centesimi per il gasolio. Ora la delibera passerà al vaglio della competente commissione consigliare dopodiché tornerà in giunta per l'approvazione definitiva. Nello specifico per la zona 1, ovvero i comuni svantaggiati, quelli della fascia confinaria che subiscono la concorrenza maggiore della Slovenia o quelli a contributo maggiorato, il provvedimento della giunta ha stabilito che ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino al 31 marzo si aggiungerà dal primo aprile un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla benzina e 6 sul diesel. Lo sconto regionale quindi raggiungerà quota 29 per la benzina e 20 per il gasolio. Inoltre per la zona 2, con i comuni a contributo base, la giunta ha stabilito che ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina se ne aggiungeranno altri 8, per il diesel si passerà da 9 a 16 centesimi. Infine, in base ad una legge regionale già in vigore per i possessori di auto ibride è previsto un ulteriore sconto di 5 centesimi sul prezzo del carburante, portando così ora, con il provvedimento odierno, la riduzione a raggiungere una punta massima di 34 centesimi per la benzina in area 1. Una misura tempestiva che permette di dare una risposta immediata ai cittadini della nostra regione, ha commentato il governatore Fedriga, assieme ai colleghi assessori Scocimarro e Zilli, a seguito dell'impennata dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà le famiglie, ma anche a beneficio dei gestori e dei distributori di benzina. E adesso ancora su questo tema, sull'energia, in questo caso parliamo però di energia elettrica e di gas per il riscaldamento, le bollette che sono sempre più pesanti, si sta creando una vera e propria povertà energetica, che riguarda le famiglie, ma riguarda anche le imprese. Ne ha parlato la CGA di Mestre nella consueta settimanale analisi, effettuata da Paolo Zabeo Chiroscusa, al servizio di Alice Mattelloni. Sono 4 milioni i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica. Si parla in particolare di quelle famiglie che si trovano nella condizione di povertà energetica, sul cui bilancio, caro bollette, il forte rincaro generale dei prezzi e dei carburanti hanno inciso ulteriormente. Una condizione che si traduce nella difficoltà, nei casi più gravi, nell'impossibilità di sostenere le spese legate all'indispensabile, come provvedere al riscaldamento, all'illuminazione o all'utilizzo di elettrodomestici. Secondo l'elaborazione dell'ufficio studi della CGA sui dati del rapporto OIP 2020, la situazione più critica si presenta nel mezzogiorno, dove la frequenza della povertà energetica oscilla tra il 24 e il 36% delle famiglie di quel territorio. Altrettanto critica la situazione in altre regioni del centro-sud, Puglia e Sardegna, in cui la frequenza di povertà oscilla tra il 14 e il 24%. Il Friuli Venezia Giulia si trova insieme a Lazio, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, tra le regioni che invece si trovano nella fascia medio-bassa, tra il 10 e il 14% di frequenza. Mentre tra le realtà meno interessate da questo fenomeno, dove la forchetta oscilla tra il 6 e il 10%, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Prima il Covid, ora il caro bollette, il forte rincaro generale di prezzi, dei carburanti stanno spingendo molte famiglie del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo di lavoratori autonomi, verso la povertà energetica. Se vogliamo veramente dare una mano a questa realtà, c'è solo una cosa da fare. Mettere un tetto agli aumenti delle bollette di luce e gas, così come hanno già fatto temporaneamente altri paesi europei. Oltre ad intervenire sugli aumenti dei prezzi, diventa fondamentale quindi incrementare la buona occupazione. Se dall'avvento del Covid fino al gennaio di quest'anno il numero degli occupati tra i lavoratori indipendenti è sceso di 185.000 unità, tra i dipendenti la contrazione è stata pari a 79.000. Risulta dunque evidente, come anche per quanto riguarda la povertà energetica, in questi ultimi due anni i nuclei dove il capofamiglia è un autonomo, la situazione è peggiorata in misura maggiore che fra le realtà familiari dei lavoratori dipendenti. Dall'estate scorsa il governo Draghi ha messo a disposizione di famiglie e imprese quasi 20 miliardi di euro contro il caro energia carburante, una cifra sicuramente importante ma ancora insufficiente a mitigare efficacemente i rincari che sono avvenuti in questi ultimi nove mesi. Adesso è il momento di parlare di Covid. Andiamo subito a sentire il rapporto di Gianni Rezza del Ministero della Salute, direttore generale, perché ci sono i dati del monitoraggio che ci dicono come i contagi stiano salendo, l'RT è salito di nuovo sopra la soglia dell'1. Sentiamo Gianni Rezza. Questa settimana tende ancora a salire l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese e il tasso di incidenza si fissa intorno a 848 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra una tendenza alla crescita, siamo a 1,12, quindi al di sopra dell'unità. L'occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13,9 e al 4,5%, quindi c'è una tendenza ad un incremento sia pure lieve dell'occupazione dei posti di area medica, mentre fortunatamente tende a scendere e a diminuire la congestione dei posti di terapia intensiva. La campagna vaccinale mostra dei tassi di copertura vaccinale molto elevati, però ricordiamo per chi non l'abbia ancora fatto che è importante completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo. E allora tornare a battere sul fronte del vaccino affinché si vaccinino più persone possibili con la terza rosa per chi ha fatto già le due e invece a iniziare il ciclo che evidentemente non l'ha ancora fatto. Vediamo i dati Covid, cominciando da quelli italiani, quindi quelli generali, che ieri hanno dato questo risponso, 75.616 nuovi contagi con 146 morti e 75.773 sono stati guariti, quindi questa volta si torna di nuovo con il saldo positivo per quanto riguarda i guariti rispetto ai nuovi contagi, c'è un incremento di 478 nuovi positivi, deve esserci perciò però un errore perché sono più i guariti che i nuovi contagi, se non vedo male, quindi c'è un errore nel calcolo dei positivi circolanti del nostro paese, ma non importa, comunque i guariti sono stati più dei nuovi contagi ieri in Italia. Vediamo nella nostra regione dove il dato è di 1.064 contagi giornalieri, meno 176, due persone in terapia intensiva, siamo al dato minimo da tantissimo tempo a questa parte, 126 negli altri reparti, cioè meno 7, in isolamento abbiamo 22.148 persone, 11.682 tamponi, con i 4.897 il totale dei morti, 9,11 il rapporto contagi tamponi effettuati, il totale dei morti che si è incrementato con i 4 del bilancio di ieri. Passiamo adesso invece a quelle che sono le conseguenze di una situazione epidemiologica che da un lato vede contagi che crescono, anche se non in maniera esponenziale, dall'altro però, come ci ha detto anche Gianni Rezzi e come abbiamo visto anche dai dati della nostra regione, lasciano gli ospedali in una situazione di assoluta gestibilità di quello che è in questo momento la pandemia. Si torna in gita scolastica, ma ci sono anche dei provvedimenti che riguardano i professori Novax, ci riassume tutto il servizio dell'ANSA. Dal primo aprile tornano le gite, il personale scolastico non vaccinato rientra a scuola, ma non a contatto con gli studenti e cambia la gestione delle quarantene. Anche con più di quattro contagiati, la DAD non scatta più, se non per i malati. È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge in vista della cessazione dello stato di emergenza. Il testo contiene alcune novità. È stata anche prevista la proroga dell'organico per l'emergenza e ulteriori risorse, e pari a 30 milioni di euro per le scuole. Con la fine dello stato di emergenza resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e su quelli scolastici di tipo FFP2 fino al 30 aprile. Non va indossata durante le attività sportive. Sarà possibile tornare a svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche, solo esibendo il Green Pass cosiddetto base, vaccinazione, guarigione o test. La notizia di cronaca, prima è andata a sbattere contro alcune autovetture in sosta, poi si è capottata su un fianco, è accaduto la notte scorsa intorno alle 3.30 in via Buonarroti a una Fiat 600 a Trieste guidata da una ragazza di 21 anni, la quale per accusare a accertare ha perso il controllo del veicolo. I vigi del fuoco del comando provinciale di Trieste l'hanno estratta dall'abitacolo, affidandolo al personale sanitario, sul posto ha operato anche la Polizia di Stato. Adesso apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con un servizio di anticipazioni con le ultimissime in casa bianconera a cura di Alessandro Surza, mentre vi ricordo che oggi c'è la partita, la trasmetteremo in diretta a partire dalle 14.55 dalla Dacia Arena, un amichevole in famiglia con una mista, con due miste che si affronteranno, i giocatori naturalmente della prima squadra, con alcuni innesti della primavera. Saltata l'amichevole col Copper per motivi organizzativi, l'Udinese si avvicina al Galoppo in famiglia in programma questo pomeriggio alle ore 15 alla Dacia Arena. Il match, che sarà a porte chiuse ma allo stesso tempo visibile in esclusiva sui nostri canali, sarà l'occasione giusta per non perdere il ritmo partita in vista della ripresa del campionato che avverrà domenica prossima quando in Friuli arriverà il Cagliari. Di Mazzarri di sicuro bisognerà fare un lavoro mentale per evitare di commettere l'errore di sottovalutare un avversario che rispetto alla gara d'andata vinta dai bianconeri per 4-0 è cresciuto moltissimo facendo tanti punti e andando a vincere, anche su campi proibitivi. Ma siamo sicuri che Cioffi lavorerà molto su questo aspetto e comincerà a farlo già da oggi, anche se in realtà siamo certi non abbia mai smesso di martellare i suoi ragazzi. La partitella a ranghi misti con l'inserimento di alcuni ragazzi della primavera sarà utile per mettere a punto alcuni dettagli da limare per ritrovare la via del gol perduto, pensiamo a Beto, e anche per riprendere contatto con il campo per quei giocatori che nell'ultimo periodo non hanno giocato molto. E qui ci riferiamo in particolare a Bram Noiting, out da due mesi, che è il favorito per sostituire Pablo Marí contro il Rosso Blu, visto che lo spagnolo sarà squalificato, ma non c'è solo l'olandese, anche Isaac Sachses e Tolgaier Slan hanno infatti saltato le ultime gare per dei problemini fisici che adesso sembrano risolti da valutare il loro impiego, ma meno di novità dovrebbero far parte della partita, così come farà parte della gara anche quel Benkovic, ancora alla caccia dell'esordio ufficiale. In bianco-nero, insomma, il menu è gustoso e il match potrà dare indicazioni utili in vista del rush finale di stagione. E parliamo adesso anche del Pordenone, atteso ad un rush finale di stagione per tutt'altro obiettivi da raggiungere, e cioè allungare il più possibile il tempo in questo momento, per evitare che si arrivi alla matematica retrocessione e chissà, sperare sempre di poter agganciare una posizione play-out in extremis, anche se è molto difficile. Ce ne parla Stefano Giovampietro. Il Pordenone sta per concludere la prima settimana delle due di sosta prima del rientro in campionato. Ricomposta la piccola frattura, frutto di un'incomprensione tra Mauro Loviso e i gruppi dei sostenitori neroverdi, adesso tutto il gruppo vuole tuffarsi nuovamente in un campionato dove il rush finale è un mare fatto di tante ultime spiagge. L'obiettivo principale dei neroverdi deve essere quello di rimandare il vertetto aritmetico della retrocessione il più possibile, per provare a inseguire quella soglia play-out che per ora sembra però poco più di un sogno. I ramarri hanno negli occhi ancora la straordinaria rimonta fatta lo scorso anno dall'Ascoli, lo ha detto anche Samuele Pelisan, una squadra che sembrava spacciata e che addirittura si salvò senza nemmeno passare dai play-out stessi. Ironia della sorte, il cammino del Pordenone di Bassoli e Soci ripartirà proprio in casa della formazione marchigiana, in vista di un mese di aprile che sarà praticamente senza sosta per tutta la Serie B. Quattro impegni canonici di fine settimana alternati con due turni infrasettimanali. In totale sei partite in 30 giorni, un ritmo da squadra che fa le competizioni europee, ma che darà tutte le chance possibili per ripartire di slancio ed evitare un incubo. Con prestazioni come quelle fatte contro Cremonese e Brescia, con il pari che ha portato all'esonero di Pippo Inzaghi, le speranze possono ancora restare vive, ma servono i punti, servono le vittorie. Sei partite non impossibili, soprattutto se si considerano i tre scontri diretti contro Alessandria, Cosenza e Crotone. Queste ultime due sfide a chiudere il mese di aprile, e lì l'imperativo è cercare di arrivare lanciati. Difficile, molto, anche se ovviamente ancora non impossibile. E adesso il basket, ci avviamo alla partita di domani per l'Apo All Dueled West. Eccolo qui il quadro dei match previsti per la giornata numero 24, con l'Apo che affronterà l'Urania a Milano alle ore 18. E noi saremo domani in diretta in esclusiva a partire dalle 17.30 dal Carnera per raccontarvi il pre-partita e poi la gara in tempo reale. Il quadro prevede anche Assigieco, Piacenza, Mantova, Beccari, Piacenza, Cantubbi e Laura Zinuovi. Capo d'Orlando contro Casale e Monferrato, ultima squadra che ha affrontato l'Apo e Abbattura in trasferta, e poi Torino, Trapani e Treviglio, Pistoia. Vediamo anche la classifica, ci sono delle partite ancora da recuperare, ma l'Apo è in testa saldamente con 38 punti, seguita da Pistoia e da Cantù. Domani dunque la partita. Andiamo a sentire come la presenta l'assistant coach di Boniccioli, Finetti. Assolutamente sì, questo primo posto che abbiamo conquistato e ci stiamo meritando sul campo di mantenere, vista la classifica molto corta, anche perché è di fatto una corsa a tre adesso, cioè fra noi Pistoia e Cantù per i primi tre piazzamenti del ranking finale, non concede nessun tipo di distrazione. Un avversario che sicuramente in questo momento ha bisogno estremo di punti, per ovviamente obiettivi e ragioni di classifica diversi dai nostri, però un avversario che ha battuto Torino, che è a tutti gli effetti una prima della classe, quindi questo a testimonianza del loro valore, è una squadra che sicuramente rispetto a noi nel corso di questa settimana arriverà un po' più fresca, visto che non ha dovuto disputare il turno infrasettimanale. Sarà una partita, come sempre, da approcciare nel modo giusto nella metà campo difensiva, per poi cercare di concretizzare lo sforzo prodotto in difesa nella metà campo d'attacco. Ci sono speranze di recuperare i due assenti, ovvero Michele Ebeling e Federico Mussini, per questo incontro? Federico Mussini sta bene, ha seguito un lavoro a parte con il professor Sepulcri durante queste cinque giorni di trasferta tra Mantua e Casale. Ebeling lo rivaluteremo, lo rivaluterà il nostro staff medico nel corso della settimana, per capire se sarà disponibile rientrato da questo virus intestinale. Prima di chiudere i programmi di oggi andiamo a vedere dunque cosa vi proponiamo con il nostro paninzesto. Intanto la partita oggi alle 15, da Michievole in famiglia tra due squadre miste che si affronteranno alla Dacia Arena alle 15 e noi dalle 14.55 saremo in diretta per mostrarvi il match. Poi vedete gli altri programmi, telegiornali in diretta, la nostra ora di informazione live dalle 19 alle 20 e poi questa sera al film Ti presento Bill. Eccola qui, la locandina del film questa sera per la serie dei grandi film di Udinese TV. Alle 21 Ti presento Bill, mentre alle 15 l'amichievole in famiglia dell'Udinese in diretta e in esclusiva dalla Dacia Arena. Chiudiamo un attimo con delle dichiarazioni del Papa, sono arrivate poco fa, dichiarazioni del Papa naturalmente sulla guerra, ha definito questa guerra una guerra vergognosa e ha detto finisca presto, libertà è essenziale, regimi controllano le comunicazioni, speriamo e preghiamo, perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l'umanità, finisca più presto, è inaccettabile, ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni. Queste le parole del Santo Padre che è stato anche citato nei giorni scorsi da Zelensky che lo ha ringraziato. Vi lascio al meteo le previsioni a cura di Trebi Meteo e noi ci vediamo alle 19 con il prossimo telegiornale in diretta. Arrivederci. Ben trovati agli amici di Udinese TV, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Su tutto il friulio di Venezia Giulia, sabato splenderà il sole, i cieli risulteranno sereni o poco nuolosi, un campo di alta pressione che ancora non determina precipitazioni. Possiamo osservare quindi come a Pordenone e Udine ritroveremo il sole protagonista sia in pianura ma anche sulle Alpi Carniche e Giulie. Temperature massime oltre i 20 gradi, un piacevole pomeriggio tipicamente primaverile. Osserviamo poi la previsione per Gorizia e Trieste, anche qui una bella giornata con ampi spazi di cielo sereno e temperatura attorno ai 19-22 gradi. dettagli e ulteriori approfondimenti li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo oppure visitando il nostro sito web. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori di